Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più di pelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui voletizzò così, che è bello, da vici una chitarra e lo spinello. Cinque anni fa se ne andava, troppo giovane Stefano Rosso, cantautore romano dal verzo scorrevole dalla rena ironica. Molti ricordano il suo brano più famoso, una storia disonesta, quello di Che bello, due amici, la chitarra e uno spinello, ma Rosso ha scritto tante altre belle canzoni che non hanno trovato ancora la fortuna meritata. Il numero dei suoi estimatori è però maggiore di quel che si creda, ed anche per questo Simone Avincola ha realizzato ora un documentario sulla vita di quest'artista, irrequieto e vitale, che finì anche per un breve periodo nella legione straniera. Via della scala è sempre là E io dal letto 26 Malato di pazienza sto E aspetto chi non torna più E' un ragazzino magro che Cantava sempre insieme a me E morì un giorno che non so E i suoi besogni mi lasciò Perché questo documentario Stefano Rosso, l'ultimo romano? Io penso che Stefano Rosso sia stato uno dei più grandi cantatori italiani, romani italiani, Per cui dopo aver capito in qualche modo che Anche dopo la sua scomparsa è stato dimenticato, è gettato un po' nel dimenticatoio E ecco, questo mi ha provocato un po' di rabbia Forse è proprio da questa rabbia che è nata questa idea di fare questo documentario Un po' una voglia di riscatto verso Stefano Che cosa c'è in questo documentario? In questo documentario ho raccolto le testimonianze di molti amici, parenti, musicisti, artisti Che l'hanno conosciuto e soprattutto che li hanno voluto bene Tra questi c'è Luigi Grechi, c'è Edoardo De Angelis, Claudio Lolli Tutti quegli artisti che poi hanno cominciato a suonare al folk studio Per cui c'è Stefano al folk studio, i suoi primi concerti E c'è Stefano nel suo ultimo periodo in cui, come diceva Giovanni del Grillo, il suo pianista Lui diceva, io voglio che i pezzi vadano in giro Ecco, per cui io spero attraverso questo firm di aver dato il mio contributo Ed essere riuscito a fare questo Il grano che nasce e l'acqua che va E' il suono di tutti i padroni o rano Che ritratto esce di Stefano Rossi? Esce un ritratto molto particolare di Stefano Perché Stefano, secondo me, da quello che ho capito Era una persona che col passare del tempo è cambiato molto C'è avuto un periodo triste Un periodo molto, come molti sanno Non ha avuto un periodo facile con le case discografiche, per esempio Però ha sempre tenuto la sua voglia di suonare Al di là di tutto, al di là del contratto discografico Al di là dei soldi Qual è la destinazione di questo documentario? Questo documentario verrà proiettato il 24 febbraio all'Asinochebola Dopodiché, verso aprile, sul mio sito Che è www.simoneavincola.it Verrà reso visibile gratuitamente da tutti Ecco, perché il mio scopo è far conoscere Stefano a tutti Io non mi sbagliavo, farò la bianca e il quinto piano E alla madre lo dicevo, calchi un po' la mano E adesso per gli stanno Spero in un effetto Rino Gaetano Spero in un effetto Rino Gaetano Perché Rino Gaetano anche è stato recuperato E anche lui era un po' dimenticato fino a 15-20 anni fa E spero appunto che questo, il mio lavoro, possa essere il primo passo Verso un'immagine nuova nella figura di Stefano Bella merita Che ci hai portato tanta cioccolata Sigarette, macchinette e Tom Miss Che ci hai insegnato che l'amore è bello E si nasconde dentro i jeans Che ci hai portato il topolino e il whisky Che ci hai rendito la casa di dischi Che ci hai salvato non so bene da cosa Col tuo cervello che non si riposa E brava te Erano amici, si conoscevano Erano molto amici Rino Gaetano e Zafono Rosso Erano molto amici Andavano a mangiare la pizza insieme Come diceva Stefano in un intervista Che bello Col pakistano nero E con l'ombrello E in giro per le vie della città Per due boccate di felicità Così di casa Di cacciai senza ritegno Senza badere a chi mi palesava Sdegno L'accompagnata strada è chiuso Ogni sportello Tornai in cucina E tre battoli uno che Che bello Col giro di schi acceso E lo spinello Non sarà stato giusto Sdegno 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 Sdegno